Eccolo, è stato approvato qualche ora fa e firmato dal ministro dell'istruzione Azzolina, da quasi tutte le organizzazioni sindacali della scuola e dalle associazioni dei presidi. È il protocollo che dà le indicazioni su come ripartire a settembre. Il primo punto riguarda le modalità di ingresso e di uscita scaglionate e a disciplinare il tutto deve essere il singolo istituto. Nei capitoletti 2 e 3 dell'accordo viene affrontata la questione pulizia personale e delle aule. Viene richiesta l'igienizzazione periodica degli ambienti da documentare in un registro costantemente aggiornato. Per quanto riguarda l'obbligo della mascherina da parte degli studenti, sarà il comitato tecnico-scientifico a dare un risponso definitivo a fine mese. Il nodo più spinoso riguarda il sovraffollamento delle aule. Azzolina si è impegnata a cercare risorse per questo, ma il problema entro il prossimo mese difficilmente sarà risolto. Questo è un problema di competenza degli enti locali. Non può essere il preside o dirigente scolastico a dover trovare questi spazi. Infatti i colleghi hanno già segnalato ormai da parecchio tempo queste due esigenze. Siamo in attesa di risposte. C'è poi la questione ancora aperta dei banchi monoposto, utili a garantire il distanziamento. Per la loro fornitura è stata indetta una gara. Stiamo parlando di tantissimi banchi, 2 milioni e mezzo, quasi 3 milioni. E quindi la possibilità, il rischio che qualcosa vada sotto purtroppo c'è, speriamo di no. E quindi a questo punto confidiamo che le cose vadano per il meglio. Nei punti successivi dell'intesa si parla della gestione degli spazi comuni, dove l'accesso deve essere contingentato. La temperatura corporea non verrà misurata a scuola. Sarà cura e responsabilità di studenti e personale farlo a casa. E se dovesse essere superiore ai 37 gradi e mezzo, scatta l'obbligo di non uscire e contattare il medico. Se invece la febbre dovesse salire a scuola, la persona interessata deve essere isolata e mandata a casa.